È evidente dallo studio Rational l'undici per cento dei pazienti dopo un test molecolare può avere accesso a un farmac. Abbiamo due tipi di problemi. Il primo è di come garantire l'accesso ai test in GS nelle situazioni appropriate e poi il secondo punto è come garantire l'accesso ai farmaci off-level. Per quanto riguarda l'accesso ai test oggi non abbiamo una governance di sistema. Abbiamo singoli provvedimenti, il 5 per 5 milioni per adenocarcinoma del polmone, il successivo sul colangio carcinoma e poi abbiamo la bozza di decreto sull'MTB e i laboratori. Per quanto riguarda invece l'accesso ai farmaci non abbiamo norme specifiche perché quello che oggi è utilizzato, la legge 648, il 5 per cento, non ne permettono un uso sistematico. Occorre riformare ma soprattutto avere una governance di sistema che mette insieme l'accesso al test sia label che off-label per l'accesso ai farmaci.